Quante volte siamo costretti a scegliere? Chi o cosa ci costringe a scegliere sempre e in ogni caso? Il dualismo fu introdotto nella storia della filosofia moderna da Cartesio, ma effettivamente è un concetto molto più antico. Esso compare infatti già nelle opere di Platone. La mente e il linguaggio. Queste erano le due sostanze ontologicamente separate, tra cui non poteva esistere alcuna influenza di tipo causale. A Taranto, una città del sud Italia, padre e figlio ci sono riusciti. Sono Dino e Tiziano Ricci, pizzaioli da tre generazioni. All'inizio sembrava praticamente impossibile, anzi a dire il vero mio padre non ci credeva affatto. Tiziano questa cosa non si può fare proprio. Ci sono voluti anni di prove, esperimenti e litigi. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Pizza Burger Ricci, un hamburger di carne di altissima qualità, racchiuso da un impasto che vanta una tradizione di tre generazioni. Tutto quello che hai sempre desiderato, in un solo piatto. Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo presso la stazione di Taranto. Sapete, la stazione per me è, in ogni città, il biglietto da visita della città stessa. Perché il cittadino, il turista arriva e già si fa una prima idea della città, è un primo impatto. E già prima di arrivare a Taranto, le mostruosità dell'Ilva, già quelle, come dire, fanno presagire una triste realtà. Ma se ci rechiamo, arriviamo, scendiamo da un treno, usciamo dalla stazione e troviamo una situazione di assoluto degrado. Parlo di degrado materiale e di degrado morale. Degrado morale, basta camminare, vedere loschi figuri che si aggirano, motivo per il quale sarebbe opportuna una maggiore sorveglianza da parte delle forze di polizia, lato senso intese, quindi della forza pubblica in generale, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma anche un po' i signori vigili farebbero bene a stare da queste parti, piuttosto che magari stare ore e ore vicino al ponte girevole. Anche le vigilesse. E poi parcheggiatori abusivi a go-go. Ma questo non accade solo alla stazione. Questo è il quadro del degrado morale. Degrado materiale, vedete qui, alle mie spalle, una situazione incredibile, erbaccia, sporcizia, l'erba è così alta e rigogliosa che potremmo addirittura portare a pascolare le pecore. Allora io dico, ma per l'amministrazione comunale è così difficile far tagliare questa erbaccia? Così si vuole promuovere il territorio? Così si vuole promuovere l'immagine di Taranto attraverso la stazione che, dicevo appunto, è il suo biglietto da visita? Ora qui non vorrei che si giocasse sulle competenze circa l'appartenenza dell'area. In ogni caso, a prescindere da tutto, qui ci sono le strisce blu. Strisce blu in cui i parcheggiatori dell'AMAT, gli addetti alla sosta dell'AMAT, appunto, controllano ed eseguono le varie contravvenzioni. Quindi parliamo di un'area che comunque è gestita dal comune. Quindi non so se l'area dovesse appartenere al comune o meno, ma in ogni caso vi è una responsabilità, una competenza del comune, visto che il comune ci guadagna con i parcheggi. Vedete? Erbaccia, sporcizia, un qualcosa di veramente mostruoso. Guardate qui, spighe di grano così, quello, diciamo, una vegetazione abbastanza spontanea. e, come dire, erbaccia di ogni tipo. Non so più cosa dire, guardate. Il manto stradale poi addirittura è completamente dissestato, è a toppe, a chiazze, perché abbiamo tratti di asfalto rappezzati e poi altri in cui emergono addirittura le antiche chianche. Guardate un po'. Oltre al fatto che qui si rischia appunto di cadere, c'è anche un dislivello. E poi guardate anche i cassonetti. I signori dell'Amiu hanno lasciato questi cassonetti preistorici, stravecchi, rotti, privi di coperchio. Guardate. Perché non vengono sostituiti? Boh, chi lo sa. Ma spostiamoci di qualche metro e vedremo una situazione di degrado analoga. Ci siamo spostati di una quarantina di metri, sempre nel piazzale antistante la stazione, e vedete alle mie spalle Altro degrado, altra sporcizia, altra erbaccia, addirittura dei pezzi così, le palme evidentemente sono state potate, per così dire, e il materiale, così chiamiamolo di risulta, gli scarti, gli avanzi, giacciono così, abbandonati, in un fritto misto di sporcizia, di erbaccia, di rifiuti, di lattine, di scatole in alluminio, contenitori in alluminio, insomma è un quadro penoso. Vedete anche alla mia sinistra, vedete, qui ci sono degli uffici pubblici, quindi uno pensa, dice ci sono degli uffici, dovrebbe esserci un minimo decoro, ma che altra sporcizia, erbaccia, un porcile, e per non farci mancare niente, vedete i cassonetti, altri cassonetti, addirittura due di essi privi di coperchio, vedete, vedete anche lì, il cassonetto rovesciato, e quindi gli animali poverini, i gatti che trovano ristoro, cercano di, così, tra i rifiuti, di trovare qualcosa, ci sono anche persone, come vedete, anche un po' particolari, perché sappiamo, ma questo non accade solo a Taranto, purtroppo è un triste quadro, vedere la gente che magari va a rovistare nei cassonetti, poveri cristi, ma in ogni caso, noi non ce la prendiamo con i poveri disgraziati, ma ce la prendiamo con gli amministratori della cosa pubblica, del comune di Taranto, che evidentemente costituiscono la nostra disgrazia, la disgrazia dei tarantini, visto che non sanno dare un minimo di vivibilità, di ordine, di decenza, di decoro, alla stazione di Taranto. Questa è Taranto. Io non devo esaltare il territorio per ingannare gli altri, io devo evidenziare ciò che non funziona, ciò che fa schifo in una città, affinché si prendano provvedimenti per rendere la città più bella. Questo significa amare la città. Se io faccio il medico, non devo nascondere la patologia al paziente, se io faccio il medico, non devo dire al paziente rimani sporco, ma dico lavati, pulisciti, per avere un'igiene della persona che ti faccia star bene, curati. Lo stesso dico al sindaco e alla giunta. È tutto dalla stazione di Taranto, il regno dello schifo. Sono così che vi piaccia o no? Grazie. 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 Grazie a tutti